Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel complesso di San Pio da Pietrilcina, proprio dall'altare che ogni sabato vede protagonisti tanti fedeli che giungono da diverse parti d'Italia, del mondo per partecipare alla fiaccolata, ma non solo, anche l'altare che diventa protagonista, questo luogo della grande veglia del 22 settembre, oggi qui perché vogliamo porci una domanda a cui spesso qualcuno ha dato una risposta, perché la scontrosità con la gente che tanto amava? Ecco, proprio da qui vogliamo partire, da questo interrogativo che ci propone Fra Marcellino Iassenzanino, un affetto male impostato, esagerato, che la gente dimostrava verso di lui, venerazione sbagliata, stima che rasentava il fanatismo, erano motivi di grande sofferenza per Padre Pio, che molte volte era costretto necessariamente non solo a rifiutare, ma anche a stigmatizzare con delle manifestazioni del genere. Infatti scrive Padre Pellegrino Funicelli, a volte Padre Pio non mancava di fare dell'umorismo proprio sul contrasto delle proprie convinzioni con quelle dei fedeli e a volte diceva, ma guarda un po', sti fanatici si ostinano a credere infallibile e impeccabile uno come me che non capisce niente. Voglio vedere se sei capace a trovare una situazione più buffa di questa. Il dolore, quindi la preoccupazione che gli portava di continuo nel cuore per questo culto verso la sua persona, nessuno potrebbe immaginargli. Infatti una notte proprio nel coro della chiesetta antica era presente Padre Pellegrino che si nascondeva per capire i segreti della sua preghiera. molte volte era proprio lo stesso Padre Pellegrino che lo seguiva di notte. Padre Pio, credendo di essere solo, piangeva e rivolto verso il quadro di Santa Maria delle Grazie diceva Madonnina mia, aiutami tu, io sono assalito da troppe persone, persone devote, troppe adulazioni, troppe offerte, io non ce la faccio più, aiutami, aiutami tu Madonnina mia. La preghiera, la preghiera sempre accompagnata da singhiozzi, fu tanto lunga che Padre Pellegrino per la stanchezza addirittura si addormentò sul tavolo della biblioteca adiacente al coro, nella quale egli a volte si acquattava, scrive Padre Marcellino. Da quell'assalto dunque che Padre Pio vede come una continua tentazione contro le virtù dell'umiltà e delle povertà, tanto da essere indotto a cercare nel pianto l'aiuto della mamma celeste. Egli doveva così difendersi durante tutta la giornata. Era costretto ad operare modi spicci, talvolta buruschi, scontrosi. Padre Pellegrino, Padre Pio ha spiegato che al fondo di questo suo agire c'è innanzitutto una motivazione di fede. Questa gente già mi crede un Padre Eterno, gli diceva. Se io non la maltratto, qui il fanatismo arriverà ad un punto che non potremo più vivere, caro Padre Pellegrino. E anche con il Padre guardiano del convento, Padre Carmelo Durante, Padre Pio ha sottolineato questa preoccupazione, una devianza proprio sul piano della fede da una parte della gente. Se non faccio così, disse Padre Carmelo, la gente mi mangia. Guarda che fanno. Guarda il mio mantello, è sforbiciato, il cingolo tagliato, ridotto come la coda di un cane. Ma questo è paganesimo. Siamo in pieno paganesimo così. Le sue reazioni scontrose, burbere, erano in effetti atti di giustizia nei confronti di Dio che solo operava in Lui.